Dunque parliamo di transistori a effetto di campo, Field Effect Transistors. Questa è una famiglia di dispositivi, Field Effect con il trattino, Transistors. Ci sono più tipi di transistori che appartengono a questa famiglia. La caratteristica generale è che si possono tutti consigliare i generatori di corrente controllati da tensione. Quindi al solito se abbiamo i tre terminali, un terminale a comune, prendiamo che sia il terminale 3, la corrente tra il terminale 2 e il terminale 3 è proporzionale alla tensione applicata a un altro terminale, per esempio rispetto al terminale a comune. Quindi questa qua la chiamiamo V1, il generatori di corrente tra i terminali 2 e 3 è controllato dalla tensione tra il terminale 1 e il terminale comune. Se andiamo a disegnare le caratteristiche di uscita, questo è l'ingresso, in questo caso questo diventa l'ingresso, questa qua diventa l'uscita, la tensione V2 è la tensione di uscita a questo punto. Ecco, se rappresentiamo le caratteristiche di uscita otteniamo quello che ci aspettiamo. Allora, le caratteristiche di uscita devono rappresentare la corrente d'uscita in funzione che è la I2, cioè questa in funzione di tensione d'uscita che è la V2. e se andiamo a leggere questo circuito abbiamo chiaramente I2 uguale Gmv1. V1 lo utilizziamo come parametro e quindi chiaramente I2 dipende soltanto dal parametro e non dipende da V2. Questo vuol dire che in pratica le caratteristiche di uscita, cioè la famiglia di curve I2 in funzione di V2 utilizzando V1 con parametro sarà fatta da tante rette orizzontali. Se scelgo un certo valore di V1 uguale, per esempio, V11 grande, allora la corrente sarà Gm per V11. Ovviamente, se prendo V1 uguale a un certo V12, la corrente sarà uguale a Gmv12. se V1 è uguale a V13, la corrente sarà uguale a Gmv13. Quindi la I2 non dipende da V2. Il comportamento è simile a quello che abbiamo visto nel caso del generatore di corrente controllato da corrente. Vedete, l'unica differenza è che questa volta il parametro di controllo è una azione. Chiaramente queste sono le caratteristiche di uscita, quindi caratteristiche ormai mi è sparito fa ricaprirci oggi mi sta cancellando quello che sta cancellando qualcosa? No Poi, chiaramente se vogliamo trovare il punto di riposo di questo generatore dobbiamo andare a includere il generatore di corrente in un circuito Nel caso più semplice possiamo prendere questo circuito che chiude la maglia di uscita per esempio una tensione VCC e una resistenza RC A questo punto abbiamo un'espressione alla maglia di uscita che è V2 uguale vedete, V2 uguale a VCC meno RC per I2 strane cose succedono su colori anche o comunque questa qui che cos'è? è la retta di carico che mi impone un'altra condizione su V2 e I2 se la rappresento su questo stesso grafico vi ricordate la retta di carico chiaramente è una retta su questo grafico con pendenza meno 1 su RC quando 0 V2 è uguale a VCC poniamo che sia questo quando V2 è uguale a 0 I2 è uguale a VCC su RC quindi trovo l'intercetta con l'altro asse a questo punto posso tracciare la retta di carico allora graficamente il punto di riposo sapete come si ottiene prima si sceglie V1 quindi si sceglie una delle caratteristiche di ingresso chiaramente la soluzione del sistema deve soddisfare sia la caratteristica non l'ingresso, l'uscita sia la retta di carico quindi se per esempio prendo V1 uguale a V12 questa sarà la soluzione questo è il punto di riposo il punto di riposo risponde lentamente va bene detto questo adesso andiamo a vedere come sono fatti i dispositivi dal punto di vista fisico cioè come sono realizzati qual è la forma e qual è anche il loro principio di funzionamento come dicevo i transistori effetto di campo sono una famiglia che comprende tanti dispositivi ne vediamo noi due in particolare quindi dicevo il primo tipo di transistore effetto di campo che vediamo è il transistore effetto di campo aggiunzione quindi il fet quindi il fet aggiunzione che si chiama in inglese junction field effect transistor o anche jfet allora come è fatto c'è una barretta di silicio vediamo di nuovo il funzionamento elementare come al solito prima cerchiamo di capire il funzionamento elementare per esempio una barretta di silicio unica di tipo n questo è il caso particolare di un jfet a canale n se la barretta è di tipo n a canale n può essere a canale n il jfet a canale p in realtà la forma più diffusa è a canale n ci sono due terminali agli estremi e tipicamente si chiamano col nome inglese per questo si è diciamo imposto in pratica il nome inglese un terminale si chiama source si indica con la lettera s si pronuncia source con la o aperta non è un source l'altro terminale source vuol dire letteralmente sorgente l'altro terminale si chiama drain letteralmente vuol dire pozzo poi sarà un pochino più chiaro l'origine del nome però non si traducono in pratica poi abbiamo invece l'elettrodo di controllo che è tutto intorno al canale sia sopra sia sotto c'è un altro contatto metallico sopra e qua una diffusione di tipo P anche dall'altra parte c'è una diffusione di tipo P P molto forte quindi come si dice un P più e poi il contatto terzo contatto che si chiama gate e si indica con la lettera G va bene tenete presente che ci sono alcune cose a consigliare innanzitutto perché si chiama fetta giunzione perché vedete c'è un'aggiunzione PN tra il gate e il canale il canale è questa cosa qua nel mezzo e dove passano le cariche l'altra cosa da notare è che i drain e i source sono equivalenti in realtà ho attribuito a uno il nome di source e a uno il nome di drain in realtà c'è una convenzione e nei GF tra canale N la VDS deve essere positiva quindi l'elettrodo a tensione più alta si chiama drain e l'elettrodo a tensione più bassa si chiama source se inverte la tensione cambio i nomi quindi il nome è legato alla polarizzazione alle tensioni che applico la polarizzazione è l'insieme delle tensioni che applico in inglese polarizzazione si dice bias non so se abbiamo bias scritto B-I-A-S allora cosa avviene in prima battuta nel nel GF chiaramente c'è una giunzione P-N condizioni anche di equilibrio si crea una zona di svuotamento tra la giunzione P e la zona N e poi diciamo a parte la regione di svuotamento che faccio in bianco c'è un'altra regione che rimane neutra e piena di elettroni liberi perché la regione è drogate tipo N quindi questa cosa che coloro in giallo è il canale la parte del canale che è piena di elettroni vedete gli elettroni possono scorrere liberamente tra source e drain siccome applico una VDS positiva l'elettro da tensione positiva è il drain rispetto al source quindi vuol dire che gli elettroni escono dal source e arrivano al drain per questo motivo escono dalla sorgente e cadono nel pozzo ok il source è l'elettro che emette la carica mobile il drain è l'elettro che raccoglie la carica mobile va bene ora prima di vedere il funzionamento ho completo il discorso facendovi vedere qual è il simbolo del JFET a canale N il simbolo è questo vedete in pratica anche nel simbolo drain e source sono perfettamente simmetrici e poi c'è una freccia che va dal gate questa stecca verticale rappresenta il canale c'è una freccia dal gate al canale che rappresenta il verso della giunzione PN questo è il simbolo diciamo universalmente utilizzato per il JFET allora vediamo prima il principio di funzionamento lo disegniamo di nuovo grande e applichiamo una polarizzazione cioè applichiamo delle tensioni ai terminali di nuovo rappresento il source da questa parte il drain un po' se ce la faccio il gate allora facciamo così mettiamo il source a massa il gate ha una tensione VGS rispetto a massa quindi rispetto al source e mettiamo il drain a una tensione VDS positiva per definizione rispetto a massa quindi rispetto al source va bene immaginiamo di essere in questa situazione e partiamo da prima VDS 0 e poi pian piano la facciamo salire allora vediamo come funziona il dispositivo la prima cosa da tenere presente è che noi vogliamo che il gate sia che nel gate non passi corrente cioè la giunzione PN tra il gate e il canale vogliamo che sia polarizzata in inversa per fare così siccome il source è a massa noi dobbiamo applicare una VGS negativa questa è una condizione necessaria per il funzionamento del J-FET la VGS deve essere negativa stiamo parlando di un N-J-FET cioè un J-FET a canale N allora se applico una tensione negativa rispetto al caso di prima in cui avevo applicato una tensione nulla che cosa succede? succede che la zona di svuotamento si allarga un po' quindi per esempio la zona di svuotamento diventa questa insomma un po' esagerata un po' più grande rispetto a prima il canale è drogato meno che la zona P quindi questo è un concetto che non sapevo vabbè la zona come non detto zona di svuotamento e quindi il canale è questa parte che rimane in giallo fuori dalla parte che mantengo colorata in giallo praticamente non c'è carica e quindi non passa corrente quando applico una tensione piccola tra drain e source ho una corrente perché come è un pezzettino di silicio drogato in cui a cui applico una tensione quindi applico un campo e quindi ho una corrente di deriva che passa corrente di deriva e chiaramente va gli elettroni vanno dal source al drain la corrente chiaramente va dal drain al source ed è positiva con questa direzione va bene se rappresento le caratteristiche di uscita quindi la corrente di rispetto a Vds adoperando Vgs come parametro che cosa ottengo allora id in funzione di Vgs queste sono le caratteristiche id in funzione di Vgs e no di Vds adoperando Vgs come parametro allora vediamo un po' che cosa ci dobbiamo aspettare abbiamo già visto come avviene la come è fatta la corrente di deriva in un pezzettino di semiconduttore o in un pezzettino di metallo la cosa è esattamente lo stesso applico una Vgs svuoto un po' il canale mi rimane per esempio questa parte gialla che conduce d'accordo e questo si comporta come una resistenza d'accordo una resistenza che ha una resistenza che ha un valore che dipende dalla concentrazione di elettroni nella zona dalla sezione della parte che conduce dalla lunghezza del canale e così via d'accordo quindi all'aumentare di Vds almeno per i valori piccoli di Vds che sono quelli che consideriamo la ID cresce linearmente con una pendenza che è inversamente proporzionale alla resistenza anche uguale all'inverso della resistenza quindi se aumento la Vds la corrente sale in questo modo se applico una Vgs più grande in modulo ma più negativa state attenti a questo discorso quindi più grande in modulo ma negativa cosa succede? applico all'aggiunzione che c'è tra il gate e il canale una tensione più alta in modo inverso e quindi svuoto di più il canale se svuoto di più il canale restringo la zona del canale in cui possono passare delle cariche riduco quindi l'area la sezione del conduttore e quindi aumento la resistenza per cui se vado a tracciare la caratteristica ID in funzione di Vds mi viene una retta come prima ma con pendenza minore perché la resistenza è più alta va bene? quindi in pratica se aumento la Vgs in modulo ma tenendola negativa passo in questa direzione quindi posso rappresentare il grafico in questo modo più aumento la Vgs in termini assoluti quindi in termini cioè sì in termini assoluti quindi se io mi sposto verso l'alto vuol dire che uso una Vgs più grande ma siccome la Vgs è negativa il modulo in questa direzione decresce andando verso il basso il modulo da Vgs aumenta e la corrente si riduce a parità di Vds perché sta aumentando la resistenza a un certo punto potrei aumentare la resistenza così tanto ok? scusi no ho sbagliato potrei aumentare la Vgs in modulo così tanto da svuotare tutto il canale va bene a quel punto la corrente non passa più perché il canale è interdetto non ci sono più cariche mobili va bene e in quel caso avrei che all'aumentare Vgs la corrente sarebbe nulla va bene quindi questa condizione che mi dà corrente nulla corrisponde a Vgs uguale ha un certo valore che si chiama Vp che è una quantità negativa che è la tensione che si dice in italiano strozza completamente il canale vuol dire svuota completamente il canale di cariche la parte che contiene cariche mobile si riduce fino a sparire completamente questa tensione si chiama in italiano tensione strozzamento anche questo è un termine proprio brutto di strozzamento in inglese si chiama pinch off voltage pinch off spesso in italiano la sentite di chiamare tensione pinch off effettivamente strozzamento non non è non è una parola che suona bene pinch off è quando anche prendete un tubo e lo stringete in modo che non passi più niente un tubo morbido quello si chiama il verbo giusto è pinch off in quel caso quindi viene completamente chiuso il canale d'accordo non passa più niente ed è una quantità importante da conoscere ok va bene questa cosa qui vale questo ragionamento qui soltanto per tensioni basse ah chiaramente la vp è negativa ok è una quantità minore di zero perché stiamo parlando di una tensione polarizzata in inversa allora questo vale per vds basse infatti l'ho disegnato in questo tratto della caratteristica perché vale per vds piccole perché per vds più grandi si innesca un altro meccanismo di funzionamento vediamolo un secondo allora riprendiamo il disegno e vediamo che succede per vds più grandi faccio il solito disegno della barretta questo è il source che è a massa questo è il drain questa è la tensione di drain e poi allora allora immaginiamo di avere una certa vgs fissata diciamo di non essere al pinch off quindi il canale è presente e lentamente aumentiamo la vds che cosa succede quando aumentiamo la vds notate la zona di svuotamento non è più simmetrica quindi adesso stiamo considerando vds più grandi perché perché da questa parte dalla parte del source la tensione applicata alla regione svuotamento è vgs d'accordo ma dalla parte vicina al drain questa zona qui è vicina alla tensione del drain quindi la tensione applicata alla giunzione pn è vgd che è più grande in modulo di vgs ve lo scrivo qua vgd per definizione è uguale a vgs meno vds d'accordo allora la vgs è negativa la vds è positiva e quindi questo vuol dire che vgd è negativa ovviamente ma in modulo è maggiore di vgs d'accordo quindi vuol dire che alla giunzione pn tra gate e drain è applicata una tensione inversa maggiore che alla stessa giunzione tra gate e source e quindi la regione di svuotamento è più grande vicina al drain che vicina al source va bene quindi se vado a rappresentare la forma della regione di svuotamento mi viene di questo tipo più piccola vicino al source e più grande vicina al drain quindi la parte di canale in cui può passare la carica è quindi questa qui immaginate un po' che succede come se fosse un'animazione a vgs piccola il canale è uniforme se la tensione drain è uguale alla tensione source le zone di svuotamento sono uguali sia vicina al source sia vicina al drain quindi il canale è uguale se mantengo la vgs uguale la zona di svuotamento vicina al source rimane quella ma se contemporaneamente aumento la vds ho che la zona di svuotamento vicina al drain si allarga e quindi il canale vicina al drain si stringe quindi partite da un canale che ha una forma più o meno rettangolare diciamo di sezione costante e all'aumentare i vds invece il canale ha una sezione che vicina al drain diventa sempre più piccola questo è quello che succede quindi state passando da un canale che ha una forma rettangolare a un canale che ha una forma sempre più stretta vicino al drain a un certo punto se continuate a aumentare la tensione sul drain il canale si chiude si strozza proprio vicino al drain che è diverso dallo strozzamento di prima nello strozzamento di prima il canale era completamente diciamo strozzato dappertutto stavolta è soltanto vicino al drain d'accordo quindi vediamo un po' di scrivere questo concetto all'aumentare di vds il canale si restringe vicino al drain fino a strozzarsi completamente a che tensione si strozza completamente quando ovviamente la tensione di strozzamento l'abbiamo già detto quando la vgd è uguale a vp quindi quando la tensione tra gate e drain è uguale alla tensione di strozzamento la tensione di pinch off abbiamo lo strozzamento però chiaramente solo vicino al drain perché solo lì abbiamo raggiunto vp vgd uguale a vp siccome vgd è vgs meno vds vuol dire vgs meno vds uguale a vp che vuol dire come condizione su vds vds uguale a vgs meno vp quindi questa è la condizione su vds per la quale abbiamo lo strozzamento allora chi ha il meccanismo di questo meccanismo fisico qui si tratta di fare una puntualizzazione perché in effetti vi ho raccontato l'effetto semplificando molto perché che sta succedendo in pratica quando noi diciamo che in un'aggiunzione pn c'è una regione completamente svuotata è una regione in cui diciamo la carica è indisturbata noi facciamo una approssimazione forte di nuovo quando diciamo cosa è bianca una cosa è nera facciamo sempre un'approssimazione forte nella pratica che cosa vuol dire non è che nella regione di svuotamento non ci sia in assoluto carica mobile ce n'è molto poca rispetto a quella che c'è altrove quindi nella spiegazione e anche nei modelli semplici per descrivere il funzionamento dispositivo si trascura la carica ma non è assolutamente zero per cui anche quando il canale è strozzato non è che assolutamente non può passare assolutamente non c'è carica mobile non può passare corrente il problema è che c'è molto poca carica mobile quindi la corrente può passare soltanto se c'è un campo molto elevato ok quindi va un pochino come dire attenuato il ragionamento se no non si riesce più a spiegare perché poi la corrente continua a passare il punto qual è che anche quando c'è lo strozzamento al canale la corrente continua a passare perché dal source fino al punto in cui c'è lo strozzamento la corrente passa perché c'è una tensione applicata e c'è carica poi arriva il punto di strozzamento e anche lì arriva il drain pole d'accordo quindi non è bisogna tenere presente che non è completamente proibito il passaggio di corrente se il canale è strozzato è un quando diciamo che la carica è sparita del tutto quella è un'approssimazione è un modo per dire che è molto più piccola rispetto alla carica che c'è altrove allora quindi abbiamo raggiunto lo strozzamento e che cosa succede se aumentiamo ancora la VDS passiamo dopo dopo il punto di strozzamento vediamo un attimo con un altro disegno no voglio farlo in nero ecco questa è una cosa che potevo fare anche prima ci ho pensato me ne servivano giusto tre allora faccio soltanto il canale non faccio la polarizzazione perché quella la consideriamo già fatta vi disegno il source che è questo in tutti e tre casi non sto a disegnare di nuovo il contatto del gate perché non ho spazio vi voglio fare una cosa tipo film tipo serie di fotogrammi allora supponiamo che siamo qua nella situazione VGD uguale quindi di strozzamento va bene supponiamo che quella sia la situazione ora facciamo un disegno un pochino semplificato di quello che succede immaginiamo che qui ci sia questo canale che ha preso una forma triangolare non è diventato rastremato parte dal è largo vicino al source e al drain esattamente si strozza ok oggi coloriamo tutto qui dentro c'è il canale vero e proprio adesso ha una forma praticamente triangolare ok adesso aumentiamo VDS quindi io mi metto voglio vedere che cosa succede in questa direzione quando aumenta VDS quindi cosa vuol dire che aumenta VDS vuol dire che la tensione sul drain aumenta se in questo punto avevamo che la VGD era uguale a VP se aumento la tensione di drain vuol dire che in questo punto la VGD sarà minore di VP in termini assoluti perché ho alzato VD d'accordo quindi VGD diventa minore di VP chiaramente sono tutte due tensioni negative quindi vuol dire che in modulo VGD è più grande di VP quindi seguiamo quello che succede lungo il canale guardiamo il potenziale su canale qui il potenziale su canale è VS quindi è 0 a un certo punto diventa uguale qua a VDS e la tensione tra il gate e il drain in questo punto è minore di VP quindi qua la tensione tra questo punto e questo è VGS che è più grande di VP che è negativa ma è più grande di VP qui la VGD è diventata più piccola di VP ci sarà un punto intermedio nel canale chiamiamolo per esempio X dove la tensione VGX sarà uguale a VP quindi in pratica non è successo nient'altro che aumentando la tensione sul drain ho spostato il punto in cui c'è il pinch off invece di averlo sul drain adesso il pinch off si è spostato avvicinandosi verso il source è diventato questo se aumento ancora questo punto si sposterà ancora più vicino al source non è l'inforzare vedete cosa fanno gli elettroni? gli elettroni partono di qui arrivano qui qui c'è un canale a forma triangolare poi qua che cosa c'è nella realtà? qui in prima approssimazione questo è tutto vuoto in realtà qui c'è un filo c'è un pochino di carica e la corrente continua a scorrere quando arrivano gli elettroni dal source al punto X di pinch off poi in realtà il campo è molto piccolo ma gli elettroni continuano a non il campo, la concentrazione di carica è molto piccola ma gli elettroni continuano ad arrivare fino al drain in pratica il tratto tra X e D siccome la concentrazione di elettroni è molto bassa avrà una resistenza molto elevata però la resistenza è molto più elevata che nel canale ma non è che non possono passare tenete presente che proprio per questo motivo io ho esagerato molto lo spostamento del punto X la tensione che passa tra D e X la tensione che c'è tra il punto D e il punto X è proprio di quanto è incrementata la tensione di drain rispetto al punto di pinch off va bene? nella pratica la resistenza tra il punto di pinch off e il punto di drain è talmente alta che il punto X rispetto al drain si sposta pochissimo io qui l'avvicinamento al source lo ho evidenziato molto per farvi vedere l'effetto ma nella pratica basta che si allontani un pochino e la caduta tra il punto D e il punto X è sufficiente a compensare tutto l'aumento di tensione di drain guardate la tensione tra il punto X qui X coincide con D quindi il punto X è costante vedete perché VX VXS posso scriverla come VX meno VG più VG meno VS e quindi VX meno VG è meno VGX giusto? VG meno VS è VGS e quindi è uguale meno VGX è uguale a VP anzi VGX è uguale a VP quindi questo è uguale a VGS meno VP quindi la tensione tra il punto X e il punto S è costante e la tensione tra il punto D e il punto X diciamo deve assorbire tutto l'eventuale aumento di tensione su D perché VDS è uguale a VDX più VXS quindi è uguale a VDX più una quantità che è costante se VGS la tengo costante come ho detto quindi quando aumento VDS aumenta solo VDX per aumentare VDX basta che X si sposti un pochino verso il source e la resistenza tra il punto D e il punto X aumenta sufficientemente da sopportare tutta la VDX ok? allora questo è quello che succede vediamo dal punto di vista delle caratteristiche di uscita che cosa sta succedendo questo è l'aspetto importante poi dal punto di vista del funzionamento allora qui succede la seguente cosa allora in questo tratto la forma del canale è ancora rettangolare va bene? poi a un certo punto aumento la tensione sul drain e il canale tende a rastremarsi abbiamo detto quindi si chiude verso il drain che cosa succede se il canale si chiude verso il drain? che la resistenza del canale aumenta perché prima la sezione era uniforme e grande adesso la sezione nel tratto finale diventa più piccola quindi come potete immaginare la resistenza complessiva aumenta questo che cosa vuol dire? vuol dire che a parità che se la resistenza fosse costante all'aumentare di VDS la corrente aumenterebbe linearmente va bene? in modo proporzionale all'inverso della resistenza se all'aumentare di VDS la resistenza aumenta la corrente aumenta meno che linearmente quindi invece di continuare ad aumentare così a resistenza costante se la resistenza all'aumentare di VDS aumenta vuol dire che passa meno corrente quindi la curva fa così chiude in questo modo lo stesso qui chiude in questo modo lo stesso anche qui la pendenza si riduce quindi questo è quello che succede quando il canale si stringe si stringe al drain a un certo punto questo è l'aspetto critico da capire la corrente non aumenta più e rimane costante all'aumentare di VDS la corrente non aumenta più quando è che succede questo effetto? qui guardate qui perché succede questo effetto? guardate la situazione la corrente passa nella zona triangolare del canale e poi passa nel tratto tra X e D ma guardate e quindi la corrente è la stessa quindi studiamo prima quella nella zona triangolare del canale la tensione applicata abbiamo una resistenza di forma triangolare la tensione applicata tra X e D ed S scusate è costante a VGS è costante VGS-VP il canale è praticamente quello perché X si sposta pochissimo e quindi la corrente non cambia a dire la verità se guardiamo la cosa dell'approssimazione di ordine 1 il canale un pochino si riduce perché X si sposta un pochino verso il source quindi non è proprio costante ma un pochino la resistenza si riduce perché si riduce il canale e quindi la corrente aumenta un po' quindi in prima approssimazione la corrente è costante guardando un pochino meglio la corrente sale un po' come abbiamo visto succedere per esempio nel bipolare ma sale appena appena un po' sale un po' perché abbiamo un effetto di riduzione della lunghezza del canale che si chiama modulazione del canale modulazione nel senso di variazione della lunghezza d'accordo? quindi in prima e in approssimazione di ordine 0 diciamo le caratteristiche sono costanti in questa zona va bene? se vado a vedere l'effetto di spostamento del punto di pinch off in realtà ho delle caratteristiche che salgono appena appena ma guardate è una cosa proprio impercettibile questo qui è un effetto di si chiama quello spostamento del punto X verso il source il punto di pinch off verso il source che si chiama quindi in letteratura modulazione del canale modulazione della lunghezza di canale per essere precisi insomma il nome fa capire di che si tratta questa regione qui in cui la corrente praticamente non aumenta più si chiama regione di saturazione quindi per semplicità si distinguono due regioni di funzionamento del transistore questa regione in cui la corrente è praticamente indipendente da Vds che si chiama saturazione e poi una regione da questa parte che si chiama regione lineare o zona triodo anche se non è proprio del tutto lineare però insomma la parte in cui la pendenza si riduce è abbastanza breve e come dire si trascura e la separazione tra la regione lineare e la regione di saturazione si ha come dire approssimativamente nel punto in cui c'è il pinch off del il pinch off al drain questo è il punto in cui Vgd è uguale a Vp cioè Vds corrisponde a V abbiamo detto Vg2 uguale a Vp vuol dire che Vds è Vgs meno Vp questo l'avevo scritto di qua Vds no l'ho scritto di qua quando avevo fatto dire il pinch off pinch off al drain Vds uguale a Vgs meno Vp questa è la situazione fatemi scrivere anche il titolo su questa slide pinch off vicino al drain questa zona questo è quello che succede in saturazione notate si chiama saturazione come transistore bipolare ma una saturazione ha un significato diverso qui si chiama saturazione perché la corrente non cresce più a causa del pinch off nel canale diciamo intorno al drain nel bipolare si chiama saturazione perché la base è satura di carica mobile quindi ha un altro significato e in effetti il comportamento è diverso in regione saturazione il transistore ha effetto di campo aggiunzione si comporta come un generatore di corrente controllato da corrente vedete questo comportamento è generatore di corrente controllato da corrente perché la corrente d'uscita corrente del drain non dipende dalla tensione sul drain ma dipende dalla VGS controllato da tensione in regione di corrente ho detto controllato da corrente volevo dire ovviamente controllato da tensione è in saturazione che funziona come un generatore di corrente controllato da tensione in questa zona questo continua fino a che è poi anche in questo caso più avanti c'è un breakdown ma al momento non lo guardiamo quindi abbiamo riguardando una regione di saturazione che è questa una regione lineare che è questa e poi c'è che non è proprio lineare tipicamente si chiama lineare anche la parte che copre questa zona un po' curva e poi abbiamo una regione in cui VGS è uguale a VP o addirittura minore a VP in cui il canale è tutto strozzato e lì praticamente la corrente non passa e quella si chiama regione di interdizione perché la corrente è nulla quindi riassumendo le regioni di funzionamento regioni di funzionamento dei GIFETS 1.3 abbiamo una interdizione detta anche regioni cutoff in cui non passa corrente e quella si ha quando VGS è minore di VP questo è un GIFETA canale N poi abbiamo una regione di regione omica regione lineare anche regione omica si chiama a volte regione lineare quando VGS è maggiore di VP ovviamente sempre minore di 0 perché la giunzione deve essere polarizzata inversamente e però abbiamo che non la VGD è maggiore di VP cioè non c'è pinch off al drain questo se VGD è maggiore di VP la condizione su VDS qual è VGD è uguale a VGS meno VDS maggiore di VP vuol dire che VDS è ancora più piccola di VGS meno VP questa è la condizione in cui abbiamo una condizione su VGS e una condizione su VDS per essere in regione lineare fino a questo valore non c'è pinch off al canale e poi abbiamo una regione di saturazione in cui abbiamo pinch off nel canale vicino al drain e lì il comportamento è quello di un generatore di corrente controllato da attenzione quindi dobbiamo sempre avere il canale presente almeno vicino al source quindi VGS compreso tra 0 e VP e però stavolta VGD deve essere minore di VP perché abbiamo il pinch off vicino al drain che vuol dire VDS maggiore di VGS meno che vuol dire che vuol dire Nel caso di transizione di effetto di campo si usa spesso a rappresentare un tipo di caratteristiche che si chiamano caratteristiche di trasferimento o trans caratteristiche. Trans caratteristiche. Che cosa mi indicano? Mi indicano come la corrente d'uscita dipende dalla tensione d'ingresso in zona di saturazione. Perché in zona di saturazione abbiamo visto che la corrente d'uscita non dipende dalla tensione d'uscita, dipende soltanto dalla tensione d'ingresso, quasi soltanto dalla tensione d'ingresso. E allora può essere utile rappresentare questa cosa graficamente. Quindi ho la ID in funzione di VGS. Ripeto, sono in saturazione. Si fa così perché se prendo un valore di VDS in saturazione, come vi faccio vedere prima, finché sono qui, è inutile rappresentare ID in funzione di VDS. Se trascuro un attimo la modulazione di lunghezza di canale, cosa faccio? Scelgo un valore di VDS per cui sono in saturazione e faccio il grafico di ID in funzione della grandezza di controllo che è VGS. Tipicamente si sceglie un valore di VDS in saturazione e si rappresenta solo per uno. Chiaramente un pochino dipende perché c'è la modulazione di lunghezza di canale, ma la dipendenza è abbastanza piccola da essere trascurabile. Ok? Quindi si rappresenta solo questa ed è fatta così. ID in funzione di VGS. Come fate? Più o meno come vi aspettate. In pratica, se questo è VP, questo è 0, chiaramente mi interessa da VP a 0. Sotto VP, se VGS è più bassa di VP, la corrente è nulla. Quindi qui non ho niente, sono in interdizione in questa zona. All'aumentare di VGS invece, che cosa succede? In VP il canale è completamente chiuso. All'aumentare di VGS rispetto a VP il canale si apre e la corrente può essere sempre maggiore. L'andamento è nella pratica di tipo parabolico. Un andamento di questo tipo. Il motivo per cui è parabolico non lo vediamo insieme. In saturazione, all'aumentare di VGS la corrente aumenta. Il canale è sempre più pieno di carica, perlomeno vicino al source. Quindi la resistenza della zona di canale che rimane è più bassa e la corrente è quindi maggiore. Quindi questa è invece la zona di saturazione. Sopra allo zero VGS non si porta mai. Va bene? Per questa di solito si usa spesso un'espressione approssimata di tipo parabolico per questo tratto. Cosa si fa? Come si indica questa espressione? Si chiama, beh, praticamente questa è una parabola, si scrive una specie di parabola che ha il vertice qua in meno VP e intercetta l'asse delle ordinate in un punto che chiamiamo IDSS. Ora se voi volete, come dire, scrivere una parabola che ha il vertice in meno VP e passa dai DSS, vedete la soluzione è unica. Ci sono tre condizioni. Passa da meno VP zero al vertice in meno VP zero e passa da zero IDSS. Sono tre condizioni su una parabola. Definisco univocamente l'espressione. E viene una cosa del genere. Non una cosa del genere, viene esattamente questo. IDSS per uno meno VGS su VP. Si vede bene che questa parabola ha quella proprietà perché quando VGS è uguale a zero ID è uguale a IDSS quindi passa dall'intercetta con le ordinate e poi quando VGS è uguale a VP la corrente viene zero e se vedete anche la derivata della corrente rispetto a VGS viene zero perché c'è quel termine al quadrato e quindi il vertice è là. Quindi questa è un'espressione di comodo molto pratica da utilizzare e rappresenta però è, devo dire, nella pratica approssimata. Se vedete una caratteristica vera di un JFET e ci disegnate sopra la parabola vedete che insomma non si discosta abbastanza non è proprio uguale però essendo semplice da scrivere si usa frequentemente. Questa cosa qua vedete fa sparire completamente la dipendenza da VDS. Questo è per un valore di VDS in saturazione che sia maggiore quindi in saturazione cosa deve essere maggiore? Maggiore di VGS meno VP abbiamo detto va bene come se vogliamo poi tener conto di quell'altro effetto di modulazione della lunghezza di canale bisognerebbe qua inserire un'espressione qualcosa che dipenda da VDS e quando si vuol fare si scrive una cosa del genere per includere l'effetto di modulazione della lunghezza di canale si scrive in questo modo IDSS per 1 più VGS su VP al quadrato e poi si mette un termine a moltiplicare che è 1 più lambda VDS vedete in pratica è una specie di espansione in primo ordine si tiene conto che questa lambda è una quantità positiva piccolina e si tiene conto che all'ammantare di VDS questo fattore complessivamente diventa un pochino più grande di 1 è una piccola correzione tipo da 1 diventa 1.05 1.1 è veramente una piccola variazione però tiene conto vedete dell'aumento di ID con VDS e per questo motivo questo coefficiente lambda si chiama fattore di modulazione della lunghezza canale è quello che tiene conto di modulazione della lunghezza di canale ecco questi parametri IDSS lambda e wp vengono dati nella scheda tecnica del JFET quindi vengono indicati e tipicamente li conosciamo l'altra cosa da sottolineare in questo momento è che nella pratica nei JFET non si usa il modello di grande segnale lineare a tratti perché non viene bene semplicemente se lo vedete questo è un andamento parabolico viene difficile da linearizzare in due tratti semplici perché è una cosa che varia abbiamo una pendenza che varia in modo molto più dolce quindi tipicamente quello che si fa è che si usa pari pari il modello parabolico l'espressione della parabola che vi ho scritto quindi come modello di grande segnale si usa un modello in pratica non lineare l'espressione approssimata delle caratteristiche di trasferimento questa è una cosa che complica un po' i conti in alcuni casi tant'è li complica ma non troppo perché diciamo chiaramente è più complicato un'espressione lineare però un'espressione parabolica è sempre abbastanza semplice da trattare in generale per cui poi anche se il sistema diventa non lineare comunque ci si riesce a lavorare spesso per fare conti l'effetto di modulazione della lunghezza canale si trascura quindi quel termine 1 più lambda vds si leva per fare conti approssimati però insomma è bene sapere che in principio c'è va bene io direi a questo punto facciamo una pausa e poi parliamo dell'altro tipo di e Grazie.